Salve a tutti amici, in questo video vediamo come chiedere un rimborso ad Apple per un'app acquistata per errore o un abbonamento rinnovato per errore. Innanzitutto per gli abbonamenti, attenzione, è necessario che controllate, se voi li volete disdire anche se avete fatto una prova gratuita, ricordatevi di controllare dentro l'App Store, andate sul simbolo del vostro profilo in alto a destra e cliccate su abbonamenti e sotto abbonamenti troverete tutto ciò che ha un abbonamento, entrate là dentro, all'interno del programma e fate disattiva. Così potete essere sicuri che non ci sia un qualcosa di attivo nel vostro account, ma che succede se ormai è stato attivato? Se voi lo annullate dall'App Store, annullate l'abbonamento, non è che riprenderete i soldi, ma andrete semplicemente a dirgli guarda, dalla prossima volta non voglio rinnovare, quindi avrete, non lo so, un mese o un anno ormai già pagato. Invece qui noi vogliamo recuperare i soldi. Come possiamo fare? Allora c'è un sito, fatelo tranquillamente dal vostro smartphone o anche da PC, basta loggarsi con l'account che utilizzate per Apple. Il sito è reportaproblemapple.com, vi lascio il link in descrizione per raggiungerlo velocemente. Quindi vi loggate e troverete questa schermata. Come possiamo aiutarti? Voi dovete selezionare richiedere un rimborso. A questo punto dirà dici di più. Allora, attenzione. Nel mio caso io andavo ad eliminare un abbonamento rinnovato per sbaglio e avevo detto rinnovo dell'abbonamento non intenzionale. Mi pare una cosa del genere. Ora, facendo clic qui, si va sotto a sbloccare tutto quello che è compatibile con questa scelta. Se non trovate quell'applicazione, allora scegliete un'altra voce come abbonamento non intenzionale o acquisto non intenzionale. Qui c'è anche l'acquisto è stato effettuato da un bambino minore senza autorizzazione. Se questo è il vostro caso, se avete qualcuno che ve l'ha fatto per sbaglio, potete selezionare anche questo. Comunque, la cosa importante qual è? È farlo velocemente. Non appena c'è un abbonamento non perdete tempo. È passato un giorno, due giorni, muovetevi, fate questa richiesta, andate avanti e riceverete un'email da Apple che la richiesta è stata presa in carico, che entro 48 ore vi daranno una risposta. Come potete vedere, questa è l'email del mio caso, ma fortunatamente sono riuscito ad ottenere un'approvazione perché ho fatto questa procedura entro un'ora e mezzo addirittura dall'acquisto non intenzionale. Quindi è bene anche conoscere in anticipo come funziona la procedura per muoversi e garantire la massima possibilità di successo. Nel mio caso l'abbonamento era anche un anno, un anno intero, si parlava di 80 euro e passa, quindi mi hanno rimborsato parecchio. Ora, il rimborso ovviamente avverrà poi nel giro di, che ne so, un giorno, due giorni, bisogna dare tempo a Apple di ridarvi il pagamento, però quando ricevete l'email finale che vi dice che hanno accettato la vostra richiesta, di lì vi basta solo attendere il pagamento. Se invece non funziona la richiesta, c'è poco da fare. L'unico modo sarebbe provare poi a contattare il gestore dell'applicazione che voi avete rinnovato. Per errore, quindi andate a cercare un'email anche nella privacy policy, perché si trovano nella privacy policy, della ditta dell'azienda di quell'app e diteli, guardate, io ho fatto un abbonamento per errore, come posso fare? Magari andate a proporre anche, se nel caso avete fatto un abbonamento di un anno, piuttosto vi pago un mese, però non un anno intero, non lo so, cercate di contrattare e vedete se loro sono disponibili a ridarvi i soldi oppure no. Prima però muovetevi tramite Apple con questo sistema che vi ho mostrato, quindi basta poi cliccare qui, fare avanti, eccetera, eccetera. Adesso non ho niente con cui farlo, quindi non posso procedere. Semplicissimo. Spero di esservi stato utile, un saluto.